Venerdì 16 aprile, all'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, si è tenuta la premiazione della finale provinciale del Premio Nazionale Scuola Digitale 2021. Nonostante il periodo difficile, l'adesione delle scuole è stata molto buona. Presenti virtualmente 12 scuole, 6 di primo grado e 6 di secondo grado. La presentazione dei lavori delle scuole è avvenuta attraverso la piattaforma Google Meet ed è stata coordinata dal direttore di Rossini TV, Emanuela Rossi, e dalla vicepreside dell'Istituto Cecchi, Chiara Fiorucci. Ecco le prime classificate. Per le scuole di primo grado, al terzo posto la scuola Nuti di Fano, con il progetto Diario della Quarantena. Al secondo posto, la scuola di Sant'Angelo Invado, con il progetto SOS Bimbi nella Rete, Istruzioni per l'Uso. E al primo posto, la scuola Olivieri di Pesaro, con il progetto Esploratori di Emozioni. Per le scuole di secondo grado, invece, al terzo posto si classifica il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, con il progetto Digital Citizens. Al secondo posto, l'Istituto Bramante Genga di Pesaro, mentre al primo posto, il Liceo Marconi di Pesaro. Stasera alle 21.30, su Rossini TV, lo speciale televisivo dedicato all'evento.